Sfiducia a frattura la conta in aula. In consiglio regionale è cominciato il dibattito sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. La maggioranza ha i numeri, ma il governatore è sempre più debole. Il PD ci ripensa e indica tre collegi. La legge elettorale discussa dalla segreteria che sceglie la strada delle tre circoscrizioni Campobasso Isernia e Termoli resta il no al voto disgiunto per Danilo Leva, una restrizione della libertà. Arresti in Basso Molise in un'operazione antidroga. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di quattro persone, scoperto un giro tra la Puglia e la Costa, due degli indagati già noti alle forze dell'ordine. Maggiorazione fiscale. Il caso alla consulta discusso dall'avvocato Franco Mancini davanti alla Corte Costituzionale illegale, che anche l'autore del ricorso ha sollevato dubbi sulle addizionali per ripianare il deficit nella sanità. Campobasso rivoluzionato via anche l'allenatore Foglia Manzillo esonerato dopo le dimissioni del direttore generale del DS. In panchina potrebbe arrivare l'ex gragnano Masecchia. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando della mozione di sfiducia a Frattura. In consiglio regionale è cominciato il dibattito, sono in corso le dichiarazioni di voto, poi dovrà parlare Frattura, che ha i numeri, però è sempre più debole. Allora sentiamo Pasquale Di Bello, che sta seguendo i lavori dell'Aula. È in discussione nell'Aula del Consiglio regionale la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle, dai consiglieri Federico e Manzo, ma sottoscritta anche dal centrodestra, dai consiglieri Iorio, Sabusco, Fusco e Cavaliere, che fa riferimento all'ormai famigerato caso Bari, caso che nasce dalla denuncia del presidente Frattura a carico del magistrato Fabio Papa e della giornalista, la direttrice di Telemolise, Manuela Petescia, completamente assolti con formula piena perché il fatto non sussiste da parte del giudice Antonio Diella del Tribunale di Bari. La discussione si è aperta in Consiglio regionale ed è tuttora in corso con una dichiarazione del presidente Frattura, che ha dichiarato la propria astensione sul voto finale relativamente alla mozione di sfiducia. Ad illustrarle, ad aprire la discussione è stato il consigliere Antonio Federico, che è il primo firmatario, ricordiamolo, della mozione, che ha parlato di perdita totale di credibilità da parte del presidente Frattura, che ha accusato due innocenti e che per questo motivo deve fare un passo indietro a Federico. E su seguito Michele Iorio, l'ex governatore, ha fatto un discorso tutto incentrato sulla morte della politica in regione Molise. A seguito di questo fatto Iorio ha parlato apertamente di un tentativo da parte di Frattura di eliminare una parte politica, in questo caso il centrodestra, attraverso un'iniziativa di tipo giudiziario. E' seguito poi un intervento incomprensibile e evanescente del consigliere Ciocca, del ex consigliere comunista, ora approdato, pare, nelle file del Partito Democratico, il quale ha definito questa una mozione sterile che serve solo a fare ammuina, ha usato esattamente questa espressione, per definire l'iniziativa congiunta del Movimento 5 Stelle e del centrodestra. E' seguito poi l'intervento del consigliere Niro, il quale ha parlato di una sentenza che lascia aperte molte domande alle quali Frattura deve dare una risposta. Frattura parlerà al termine della discussione, allorquando poi si chiuderà tutta la mattinata con una votazione che deciderà se accogliere la mozione di sfiducia oppure respingerla. E la legge elettorale continua a essere terreno di scontro politico, ora dopo le dure prese di posizione in tutta la regione e da parte di quasi tutti i partiti anche il PD ha fatto marcia indietro sul collegio unico, la segreteria però ha confermato l'abolizione del voto disgiunto, vogliono toglierci un pezzo di libertà, ha commentato Danilo Leva. Sentiamo Giovanni Di Tota. Il terreno sotto i piedi comincia a farsi più molle del previsto e le ostentazioni di forza e sicurezza hanno all'improvviso cominciato a vacillare, specie dopo la disfatta in Sicilia. Dunque alla fine anche il Partito Democratico, quello della segreteria Fanelli che sostiene il governo Frattura, si è guardato l'ombelico e ha deciso che per la legge elettorale regionale forse era meglio abbassare la guardia. La proposta scaturita dalla segreteria in riunione nella serata di ieri ha rimesso al centro la suddivisione della regione in tre collegi, Campobasso, Isernia e Termoli, mandando quindi definitivamente in archivio la velleità del collegio unico che costituiva invece l'architrave della legge propagandata dal governatore nelle ultime settimane. Una legge per la verità che aveva provocato l'irritazione di tutti, specie nella provincia di Isernia ma anche all'interno dello stesso PD. Quella del collegio unico è l'idea sostenuta nella proposta di Vincenzo Niro ma anche dal Movimento 5 Stelle. Dopo il coro di proteste e le perplessità sollevate anche all'interno dello stesso centrosinistra, il PD ha rimodulato la legge che arriverà nell'aula del Consiglio tornando alla divisione dei collegi. Il sistema elettorale rimarrebbe quello maggioritario con l'eliminazione del listino, l'introduzione del voto di genere e l'abolizione del voto disgiunto. In sostanza una proposta simile a quella di Niro, con la sola differenza dei tre collegi anziché di uno. Anche quella ipotizzata da Scarabeo ora si avvicina a quest'ultima soluzione. In questo caso però la differenza tra le due è che Scarabeo chiede di mantenere la possibilità di dare all'elettore la libertà di votare per un candidato consigliere che non sia collegato al presidente, in sostanza di mantenere il voto disgiunto. Nei prossimi giorni sarà il Consiglio ad esprimersi, ma sulla strada intrapresa ieri in via Ferrari c'è da fare alcune considerazioni. La prima, politica evidentissima, è una marcia indietro rispetto alla prima bozza della legge con il collegio unico voluto da frattura lasciato con il cerino acceso tra le mani a difenderla senza più nessuno attorno. La seconda tecnica, ma altrettanto evidente, è che a frattura del collegio unico, dei tre collegi o dei comuni come nel Medioevo non importa più di tanto. Il padre di tutti i cavigli elettorali per il governatore resta il voto disgiunto. Una parolina che gli consente di blindare attorno al suo nome le liste e i consiglieri che riuscirà a mettere insieme. In caso contrario, il rischio del fuggi-fuggi degli elettori nella cabina elettorale è ormai prossimo alla certezza. Ci vogliono togliere un altro pezzo di democrazia, ha dichiarato il deputato di articolo 1 Danilo Leva, da sempre fautore della libertà di scegliere il candidato presidente e uno qualsiasi dei consiglieri candidati in una lista, qualsiasi. Ancora tutta da decifrare la strategia dei 5 Stelle, anche loro favorevoli alla restrizione e alla preferenza. Dalle urne siciliane è emerso chiaro un segnale. Il voto disgiunto vale l'8%, ma al di là del tecnicismo, che è poi decisivo per determinare una vittoria o una sconfitta, resta il fatto che nel caso passasse questa ipotesi anche in Molise, gli elettori sarebbero tutti un po' meno liberi e per un partito che si chiama Democratico sarà ancora più difficile spiegare questa scelta ai cittadini. E in riferimento alle voci di stampa che frequentemente parlano di una possibile candidatura di Enzo Di Giacomo alla presidenza della regione, il magistrato ha emesso un comunicato in cui afferma che pur prendendo atto di tali apprezzamenti rivolti alla sua persona, chiarisce che tuttavia non ha preso in considerazione né tantomeno accolto alcuna proposta, essendo allo Stato concentrato esclusivamente nell'adempimento delle sue funzioni giurisdizionali. Come cittadino, ha aggiunto Di Giacomo, penso che per fare uscire il Molise dall'attuale crisi economica ed occupazionale occorrerebbe una forte compattezza e unità, non la frantumazione, le spaccature e le divisioni. L'unità sarebbe un atto di amore verso questa nostra terra, ha concluso Enzo Di Giacomo. E giovedì a Campobasso si presenta un nuovo soggetto politico, democratica. All'incontro interverranno Adele Fraracci, Antonietta Pistilli, Simonetta Tassinari, Mino Dentizzi e Nicola Magri. Dopo gli incontri delle settimane scorse e il bisogno di sfidare le ciniche logiche di potere che hanno violato la dignità dei lavoratori, calpestato per tanti troppi anni il decoro della regione e il rispetto delle regole e dei rapporti interpersonali, il movimento politico illustrerà obiettivi e finalità prioritarie. L'appuntamento dunque è al Livre, il caffè letterario, giovedì alle 16. Mozione di sfiducia anche per il Presidente del Consiglio Comunale di Isernia, Giuseppe Lombardozzi. Sarà presentata giovedì da 12 consiglieri comunali di maggioranza. Ci dice tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. È decisamente tempo di mozioni di sfiducia dopo quella in discussione in Consiglio regionale contro frattura. Arriva quella che sarà presentata giovedì a Isernia da 12 consiglieri di maggioranza che chiedono la testa di Giuseppe Lombardozzi, Presidente in carica del Consiglio Comunale. Una vicenda che parte da lontano, da due mesi fa, quando Lombardozzi, dopo aver votato contro l'approvazione della delibera di giunta per l'affidamento esterno dei servizi di riscossione, scrisse in risposta alle accuse di inaffidabilità partite dai banchi di maggioranza che c'era una regia oscura che tramava contro Di Lui per il suo voto, dato nell'interesse della cittadinanza. Una precisazione che invece di gettare acqua sul fuoco ottene l'effetto di esacerbare ancora di più gli animi della maggioranza, tanto da spingere diversi esponenti dal centrodestra a Palazzo San Francesco a smarcarsi da Lombardozzi, prendendone le distanze e arrivando oggi a chiederne la sfiducia. I contestatari del Presidente del Consiglio, in sostanza, dicono a Lombardozzi se è stato eletto dalla stessa maggioranza che sostiene il sindaco, la riscossione esterna dei tributi è stata inserita nel programma evoluta da sindaco, giunto in maggioranza. Dire pubblicamente che hai agito nell'interesse della cittadinanza equivale a dire che la maggioranza intera ha fatto il contrario. È un'accusa politica bella e buona e dimostra concretamente che non appartieni più alla maggioranza, che per questo motivo ti toglie la fiducia. Questa è la sintesi, ma veniamo alle possibilità concrete di mandare a casa Lombardozzi, che non sono molte. Infatti, se sono state trovate 12 firme per presentare la mozione di sfiducia, il secondo passo è trovare almeno 9 voti per arrivare ai due terzi del Consiglio. Infine, bisogna anche capire se la sfiducia ad un Presidente del Consiglio Comunale equivalga alla sua defenestrazione. Tutta materia di interpretazioni giuridiche. Il dato politico è però incontrovertibile. La maggioranza di centrodestra, Palazzo San Francesco, sulla sfiducia a Lombardozzi è pronta ad esplodere. La cronaca ai carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso. All'alba hanno arrestato quattro persone su ordine del GIP di Larino Vezzi, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Poi ha accertato un traffico di droga tra la Puglia e la Costa, in cella un uomo residente a Termoli e uno a Porto Cannone. Già con precedenti, gli altri due sono di Sansevero. Ci dice tutti i dettagli, Manuela Iorio. Quattro persone arrestate e sette indagate, di cui cinque vivono nella provincia di Campobasso. E il risultato dell'operazione del nucleo provinciale dei carabinieri a cui è stato dato il nome Green Energy, che ha portato all'esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere per due molisani, un quarantenne di Termoli e un sessantenne di Porto Cannone e per un uomo e una donna di Sansevero. L'accusa per l'ore di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I particolari dell'operazione sono stati illustrati dal capitano Vincenzo Di Budo insieme al maggiore Nicolino Petrocco e al procuratore capo di Larino Ludovico Vaccaro. Un'indagine andata avanti per quasi tre anni e che è partita con la scoperta di una piccola piantagione di marijuana nel 2014 nelle campagne di San Giacomo degli Schiavoni e con il sequestro di 45 chili di piante pari a 11.300 dosi. In quell'occasione venne eseguito anche un arresto in flagranza. Venne trovata anche cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Da qui sono partite le indagini che soprattutto grazie alle intercettazioni telefoniche hanno fatto emergere un traffico non solo di marijuana ma anche di hashish e cocaina. Si è venuti a ricostruire questo fiorente commercio di sostanze supevacenti nella zona del Basso Molise con dei rifornimenti specifici per la cocaina su San Severo e per la marijuana sull'Esina nella confinante provincia foggiana. Quindi è stato un risultato di un'analisi di quei risultati che ci ha portato poi a proseguire un'attività di indagine specifica. L'uomo e la donna di San Severo arrestati all'Alba sono pluri pregiudicati e appartengono a un clan conosciuto della zona. Ha conferma che le incursioni della malavita pugliese soprattutto sulla costa molisana sono sempre più evidenti. Altre sette persone sono indagate, cinque dell'Interland di Campobasso e due della provincia di Foggia. Il GIP di Larino Vezzi che ha firmato gli arresti ha trasferito le loro posizioni alle rispettive procure di competenza. Riguardo al centro di rimpatrio volontario a San Giuliano di Puglia e gli avvisi di garanzia a cinque persone responsabili di alcuni centri di accoglienza non a norma. Claudia Mistichelli, portavoce di Fratelli d'Italia insieme ad alcuni cittadini di Campobasso è intervenuta annunciando che sta iniziando una raccolta firme per una petizione da consegnare al sindaco. Basta aperture di nuovi centri di accoglienza in città e basta nuovi arrivi. Ha scritto in una nota Campobasso ha già assolto abbondantemente ai suoi obblighi di accoglienza e solidarietà e ora che si pensi ai problemi dei Campobassani il sindaco deve prendere una posizione in merito per il bene di tutto il capologo di regione. Deve dire basta. La portavoce di Fratelli d'Italia ha poi spiegato che domani nell'incontro settimanale in via D'Amato tutti i residenti avranno la possibilità di firmare la petizione. Sanità si è discusso alla Corte Costituzionale è un ricorso contro la maggiorazione delle addizionali regionali disposte per ripianare il deficit sanitario a patrocinare l'impugnativa l'avvocato tributarista Franco Mancini. È la prima volta che un avvocato molisano arriva a discutere un ricorso alla Suprema Corte. Sentiamo Pasquale Di Bello. Alle tante e odiose forme di vessazione imposte dal sistema contributivo generale in Molise se ne aggiunge una ulteriore. La maggiorazione delle addizionali regionali ovvero di quelle tasse sulle quali la regione può incidere direttamente. L'annosa questione che si protrae da anni è strettamente legata al piano di rientro dal deficit sanitario imposto dal tavolo tecnico romano. Ad ogni verifica nel corso del tempo puntualmente è seguita una bocciatura relativamente agli adempimenti imposti dai funzionari ministeriali. Di fatto il tavolo tecnico con la propria azione ha determinato direttamente una imposizione fiscale sui cittadini senza averne alcun titolo, va precisato. Dinanzi a queste frizioni del sistema fiscale l'avvocato tributarista Franco Mancini ha patrocinato nelle scorse settimane un ricorso davanti alla Corte Costituzionale per violazione degli articoli 53, 97 e 24 della Carta Costituzionale. Franco Mancini in quella circostanza ha patrocinato le sue stesse ragioni essendo stato lui stesso a sollevare la questione davanti alla Commissione Tributaria di Campobasso. Le disposizioni che prevedono che le addizionali regionali all'IRPEF e all'IRAP peraltro si applichino nella misura massima cioè di ufficio, di imperio per le regioni che si trovino in ritardo sul piano di rientro dei disavanzi sanitari stride sia con l'articolo 53 della Costituzione che con l'articolo 97 e 24. Queste eccezioni sono state considerate fondate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso all'epoca preseduta dal giudice Di Nardo che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Quali sono i motivi dei nostri sospetti di incostituzionalità? Che non esiste alcun nesso logico tra le maggiorazioni impositive a carico di tutti i cittadini e il ritardo o l'inefficienza nei piani di rientro dai deficit sanitari. Se passasse questo concetto cioè di punire tra virgolette i cittadini per deficit di alcuni settori dovremmo, e questo ho sottolineato anche dinanzi alla consulta, dovremmo pensare anche ai deficit dei trasporti regionali del ciclo dei rifiuti. Quindi nemmeno sotto il profilo delle cosiddette sanzioni indirette o improprie si può giustificare questo tipo di tassazione anche perché sappiamo bene che i disavanzi sanitari comportano e determinano già delle misure coercitive e sostitutive pesanti a carico delle regioni attraverso il blocco delle assunzioni del turnover il divieto di trasferimenti statali la decadenza dei direttori generali la nomina dei commissari ad acta. Sotto questo profilo sovviene anche l'altra eccezione quella in riferimento all'articolo 97 della Costituzione perché non vediamo imparzialità in una pubblica amministrazione che concorre a redigere quei piani e poi li deve giudicare attraverso tavoli tecnici che diventano meccanicamente anche fonti di un'obbligazione tributaria. Il risvolto dell'intera vicenda è che qualora venisse accolta dai giudici costituzionali la tesi di Mancini alla regione toccherebbe scucire un bel po' di quattrini da restituire ai molisani. Ipotesi sulla quale però è bene non farsi molte illusioni. L'avvocatura dello Stato, ovvero la controparte di Mancini alla Corte Costituzionale, ha sostenuto un discorso di tutela e tenuta generale del sistema fiscale. In pratica i giudici potrebbero riconoscere fondate le tesi di Mancini ma esse potrebbero risultare soccombenti davanti all'interesse generale dello Stato. Ma non è detto perché uno degli elementi costitutivi dello Stato sono proprio i cittadini, il popolo, beffato in questo caso due volte dalla tassazione e da un sistema sanitario che fa acqua. Nel terzo trimestre del 2017 in Molise il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese è stato di più 43 unità. Determinarlo hanno concorso le 336 iscrizioni di nuove imprese, le 293 cessazioni in diminuzione di 16 unità rispetto al scorso anno. Il risultato positivo del trimestre non è bastato però a compensare la più ridotta dinamica di inizio anno cosicché il bilancio gennaio-settembre si ferma più 43 imprese contro le 413 dei primi nove mesi del 2016 e le 88 del 2015. Questi dati salienti diffusi dall'Ufficio Studi e Ricerche di Union Camere Molise. Alla Borsa del Turismo Internazionale che si svolgerà a Milano a febbraio il Molise sarà presente puntando sul racconto virtuale del proprio territorio e sulle proprie peculiarità. Le novità sono state illustrate in una conferenza stampa in giunta regionale. Sentiamo. Alla bit di Milano dall'11 al 13 febbraio il Molise non racconterà territori ed eccellenze con le classiche immagini o foto ma lo farà scegliendo la realtà virtuale attraverso un effetto cupola che ricorda i planetari è stato detto durante la conferenza stampa in giunta regionale tenuta dal governatore Frattura e dal commissario straordinario dell'azienda autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli Remo di Giandomenico. Lo standard a doppia è stato spiegato mantenendo la stessa spesa dell'anno scorso 120.000 euro. Fino ad ora hanno aderito 73 piccole e medie imprese e 58 comuni. Sarà possibile fare un tour virtuale indossando un visore 4 gli apparecchi per tuffarsi nelle peculiarità del Molise una terra d'incontro tra i colori e sapori forti del sud e il fascino discreto del centro piccolo microcosmo dell'Italia più autentica sospeso tra Adriatico e Appennini si legge sul sito della Bit. Il racconto delle eccellenze seguirà quello delle quattro stagioni e per ognuna ci saranno le immagini relative a ciascun luogo ogni stagione ha le sue peculiarità ad esempio in primavera Le Carresi un viaggio per scoprire il mare la costa, la montagna e i comuni c'è Termoli qui è associato il fumettista Iacovitti che gli è nato ad esempio Sant'Elia Pianisi dove è stato San Pio Capracotta e il territorio alto molisano qui è associato il Tartufo Sepino con la città romana di Altilia e il Matese uno dei punti forti l'enogastronomia mettendosi sotto la cupola che sarà montata la Borsa Internazionale del Turismo a Milano si dovrà avere negli intenti la sensazione di immergersi in paesaggi e borghi molisani ci sarà uno sportello e-commerce poi dove proporre pacchetti turistici Frattura ha parlato di racconto che si innova il nuovo spirito imprenditoriale per Di Giandomenico l'obiettivo è mettere al centro la stagionalità e puntare sulla curiosità e l'interesse che ha detto hanno fatto bene alla costa ai comuni si chiede di portare materiale che già hanno mentre agli imprenditori i loro prodotti che potranno vendere in fiera A Isernia sede di sovrintendenze e musei statali non si riescono ad aprire le sale del complesso di Santa Maria delle Monache per mancanza di allestimento ma poi si scopre che alcune vetrine sono state date a San Pietro Avellana per aprire il suo museo a lanciare l'accusa Emilio Itzo segretario regionale della UIL Beni Culturali qualcuno dovrà rispondere di tutto questo ha detto ancora il sindacalista a partire dai vertici ministeriali a quelli locali per finire a quelli della politica che fa finta di non vedere il saccheggio che sta subendo Isernia Itzo oltre a chiedere al sindaco di Isernia di farsi promotore di una protesta nei confronti della soprintendenza invita i parlamentari molisani a presentare un'interrogazione al ministro Franceschini per sapere ha concluso ancora il sindacalista Emilio Itzo come possano accadere certe schifezze così ha detto testualmente lo scheletro di cemento di via Elba Termoli presto potrebbe trasformarsi in un centro polifunzionale con auditorium e sedi per le associazioni il progetto è stato presentato per un investimento da 4 milioni di euro sentiamo Manuela Iorio uno scheletro di cemento in mezzo alla vegetazione incolta e a cui i termolesi sono così abituati da non farci più nemmeno caso sta lì da decenni il rudere di via Elba la strada che porta al Santimoteo e negli anni è stato anche rifugio per senza tetto l'amministrazione comunale guidata da Angelo Sbrocca però ora lo vuole recuperare e vuole riqualificare l'intera zona per questo motivo ha pubblicato nei mesi scorsi un avviso di project financing a cui ha risposto una ditta di Termoli che in collaborazione con una società di costruzione di Montenero di Bisaccia ha proposto di abbattere lo scheletro e realizzare una nuova struttura da 2500 metri quadrati su due livelli al piano terra dovrebbe sorgere un punto vendita di prodotti del territorio biologici a chilometro zero al piano superiore un auditorium con 180 posti a sedere locali per le sedi delle associazioni e un piccolo bar questi ultimi a disposizione del comune ci sarà anche un ampio parcheggio e un'area verde per 3000 metri quadrati il tutto per un investimento da 4 milioni di euro di cui 2 milioni e mezzo a carico del privato il resto ce lo metterà il comune la proposta è stata portata anche in commissione lavori pubblici ha riscosso un certo interesse la struttura comunale ora si sta occupando del bando che dovrebbe essere pubblicato a breve e su cui la ditta che ha proposto il progetto avrà diritto di prelazione insomma si sta andando avanti con la stessa procedura che si è seguita anche per il tunnel è stato presentato al comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Campobasso il tradizionale calendario della benemerita per il 2018 c'era per noi Valeria Farina la conferenza stampa di presentazione sentiamo è ormai una tradizione un documento e un oggetto da collezione il calendario storico dell'arma dei carabinieri racchiude la storia e i significati della benemerita per il 2018 l'arma ha voluto parlare dell'impegno internazionale dei militari impegnati all'estero nelle missioni di pace e dei valori del corpo come la sicurezza sociale l'impegno per l'ambiente l'integrazione e la tutela del patrimonio anche quest'anno presentiamo il nostro calendario storico che quest'anno termina il trittico iniziato nel 2016 con come diciamo elemento fondante le arti figurative il nostro calendario ha raggiunto anche tirature notevolissime superiori al milione di copie e viene ormai tradotto in oltre 11 lingue è diventato un oggetto da collezione fin dal 1928 che è l'anno del primo calendario 12 temi per 12 mesi illustrati con 12 disegni da diversi artisti internazionali provenienti ognuno dalle zone dove l'arma è impegnata nelle azioni di cooperazione il calendario è stato realizzato sotto la direzione artistica di Silve Di Paolo e con la consulenza del critico d'arte Filippo D'Averio e Bartolomeo Pietro Marchi direttore del Museo Maxi Arte di Roma ed esperto di arte contemporanea infatti quest'anno partendo da un'area geografica dove l'arma ha prestato servizio con le proprie missioni internazionali partendo da questa area geografica attraverso l'esposizione di un giovane artista internazionale selezionato dal direttore del Maxi e dal noto critico d'arte Filippo D'Averio arriviamo alla concretizzazione di un valore fondante dell'arma dei carabinieri e di un impegno dell'arma dei carabinieri in un particolare settore quindi 12 mesi 12 artisti 12 aree geografiche e 12 temi importanti per il nostro servizio mese dopo mese l'arma ha omaggiato il lavoro dei militari all'estero racchiudendo il significato ultimo nel paginone centrale dove la fiamma è circondata dalle bandiere di tutti i paesi dove è presente la benemerita l'arma appunto ha voluto proiettare anche al di fuori dei propri confini internazionali i propri uomini attraverso le missioni di pace e le missioni di stabilizzazione di aree geografiche particolarmente difficili che hanno anche sofferto episodi bellici per l'edizione 2018 il calendario ha raggiunto una tiratura di 1.300.000 copie di cui quasi 11.000 tradotte in lingua dall'inglese al francese fino al cinese al russo è tutto il nostro telegiornale delle 14 termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea i colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 buon pomeriggio a Grazie a tutti.